musica ok, ventitreesima parte fachizzati iniziamo bene ora bisogna andare nell'ultima città ok e battere l'ultima palestra che sicuramente allenerò molti pokemon per l'ultima palestra che è quella più difficile andiamo dopo aver sconfitto il team rocket Ash si dirige verso non mi ricordo come si chiama la città verso oh senti devo scoprire come si chiama non me lo ricordo proprio vabbè fjordoropoli curiamoci pokemon no, prima voliamo, vai eh, è banopoli ecco e vogliamo a mogania 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 e curiamoci i pochi monzoli ok ok ma ciò che li si è stabilito nella prossima world party sicuramente lo ritroverete ben allenato e battiamo il primo allenatore che ha un nato che ci può uccidere si ci può uccidere ok mettiamo ampharos e gli facciamo un tono pugno già nato prima è rinato ora si è morto questa è davvero brutta va bene alla kazam contro alla kazam guardiamo chi vince oh no è un cadabro è un cadabro vabbè alla kazam contro il cadabro non ha palla ombra non gliel'ho ancora insegnata rifless ok o le le o la la o la lune ok prendiamo questa pokémon che è un repellente max e continuiamo e battiamo questo pescatore che se non mi sbaglio avrà dei quillfish no dei remoride ecco ok vi sale il tiro vuole a raggio aurora colpo karate perfetto ho storia moratti e ma ciò che sarà il 29 un altro remoratti movimento sismico ecco psico raggio questo ci può uccidere quando è che un remoride sa fare psico raggio ora perfetto comunque andiamo a band ora questa qua dovrà dovrà dovrebbe avara non mi ricordo mi sembra di poco di tipo boh non mi ricordo ma infatti di tipo di tipo lasciamo lui guardiamo se funge un mare eccoci me l'ero dimenticato vabbè altro sviluppo fa sull'attacco di tipo fisico fisico bello somm bello sommettiamo lui perché non ha attacchi di tipo volante molto più forti tipo attacco d'ala ora salto vabbè ok e battuta anche questa allenatrice ora battiamo l'ultimo cioè l'ultimo fra virgolette un charmeleon muore manumite scintilla ciao ci piace questo elemento è morto in un colpo solo ok andiamo avanti ah c'è l'ultimo allenatore che di tipo uccello l'ultimo ai ai po' con scuolante a un no tutt si paralizzati è normale dai ammazzati siamo tutti i prova bene Pg8 Ok, ora andremo nella via gelata Ma gelata Ci sarà il gelato Che buono, ci entreremo Via gelata per l'appunto Ora, allora, la borsa Oh, che bello, c'è anche dei superrepellenti Perfetto, ci piace Allora, spostiamo Ciambrana qua E ci mettiamo lui Ok, il primo ostacolo Si è superato, quest'altro sarà una cosa Un po' difficile da superare Non mi ricordo quanto ci misi Ma mi ricordo che ci misi tanto, comunque Riuscirò a scendere, ciao Questo è il fotografo Se vi volete fare una cosa Io non mi ricordo mai come si fa questo cosino Ok, allora, rinitiamo da capo Perché ci piace questo gelato Ok, così Mi sembra così, così Così, e olè Ci si è fatta Ora, qua si prenderà Per forza, perché se no non avremo cascata Olè, è cascata È cascata viene a me, olè È cascata viene a me Allora, il problema è ritornare No, non è per niente Ok, ora usciamo E questo mine ci farà Oh, oh, oh Lo strumento è creale per terra È una macchina nascosta, vero? In realtà è la cosa da me Ma non preoccuparti Visto che la gentilmente raccolta Te la regalo Che gentili che sono questi mine Ok Allora Ce l'ho qualcuno che sa fare Forza? Penso di sì No Allora Forza Ah, ecco l'ombra L'appunto Forza, forza, forza Si insegna A cosa? Ah Mashoke Ok Egli si toglie Questo no Questo no No Movimento sismico Ok Ora Sposto questo masso dentro Peggio masso Non lo potevo trovare Vabbè Aspettate Bisogna andare di qua Oh 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 Me la sono vista brutta Ok Gli altri massi li sposto Nella prossima puntata Nella prossima puntata Perché Neanche puntata Che cazzo Nella prossima parte perché Se no ci metterai troppo Ok Grazie Ci vediamo nella prossima Parte Ciao